Sotto l'albero i prodotti tipici stagionani del nostro territorio. È la proposta che lancia ai padovani la provincia che trasferisce nel web la manifestazione Sapori d'autunno. Abbiamo deciso di non fermarci, di riprogrammare subito una nuova iniziativa per Natale, per intercettare l'offerta e far conoscere le eccellenze padovane. 30 aziende si sono messe in gioco e noi abbiamo creato a Natale Compra Padovano Sapori di Natale. Un buono che si potrà spendere fino al 30 giugno nelle aziende aderenti all'iniziativa sparse in tutta la provincia. Sarà acquistabile online nel sito di saporipadovani.it, sarà acquistabile sia dai privati che dalle aziende. I privati che magari vogliono fare un regalo di Natale diverso, dalle aziende che magari vorranno riservare ai propri clienti, ai propri dipendenti, un pensiero natalizio che abbia un valore importante anche per il nostro territorio. Questo buono di 30 euro sarà spendibile nelle 30 aziende agricole della provincia di Padova che hanno deciso di aderire a questa iniziativa. Radicchio, verde, zucche soppresse, farine, formaggi e vini, proposte per tutti i gusti nel pieno dei sapori d'autunno. In un lavoro di squadra la provincia insieme alle associazioni di categoria hanno voluto reagire a questo dramma della non poter fare questo tipo di manifestazione ormai presente da tantissimi anni qui a Padova e la soluzione migliore che si è individuata è stata proprio questa. Qui portiamo il consumatore direttamente nell'azienda, quindi è un'occasione per andare a conoscere come si produce il cibo, come si produce il vero cibo autentico padovano, quindi andare a scoprire i metodi di coltivazione, ma anche sia i prodotti tradizionali, ma anche le nuove preparazioni. Noi abbiamo un territorio sul quale non manca niente, dall'alta padovana alla bassa padovana abbiamo qualsiasi tipo di prodotto. Qui ci sono tutte le categorie agricole assieme su questo progetto, spesso siamo assieme anche nei mercati.